Finalmente sono andato, sono allo skyview Qua non c'è un tubo Speravo ci fosse qualcosa, non c'è nè Però qua si vedono bene alcune aeree, sono sincero Andiamo a comandare col mio 70-200 Veramente, due aeri stanno per partire Ci vediamo dopo Alla prossima Alla prossima Oggi in veste di fotografo Vado a cercarmi un po' di posti A fotografare questi punti Alla prossima Questa è come si presenta la zona Questo è un bar Poi vi faccio vedere il museo dopo Alla prossima Vado a vedere il museo dopo Ma comunque Non credo che c'è un elevatore Ok Usa un elevatore Andate Andate Eccolo qua Ok Qua non si può sanire Andiamo a comandare Ragazza, non è bellino E qui ci sono i boss con tutti i cannoni Qua c'è un parchettino Vista molto bella E andiamo a vedere Qui c'è scritto Naha 1200 km Giappone 1100 Vabbè lasciamo aperto Non capisco il motivo Per cui abbiano dei 70-200 Con corpi di merda C'è cazzo C'è una lente della madonna E c'è un corpo del cavo Vabbè lasciamo aperto Aspettiamo 2-3 aerei Poi me ne vado anch'io Perché sono fatto C'è da prendere un treno A farmi una doccia Lasciamo aperto Ciao ciao Qui c'è una sala vuota Altra sala Departure Departure io c'è un treno Perfetto Qui non c'è niente Qui c'è parco giochi per i bambini Ci sembra che è un po' per i bambini Qua arriva la parte bella Secondo me Guardate qua Che spettacolo Per gli animodelli C'è insomma Sono molto belli Però il resto Fa un po' cagare Si sono un po' sprecati Bello Molto bello Non ci hanno buttato Ana Ci hanno messo Tutti gli air Forchè Ana Ma forse Dall'altro lato Guardate che Com'è gigantesco L'Airbus Oggi c'è una data Starflyer Ok Oh posso vedere Una ruota Qui c'è una spiegazione Ma oggi non c'è Questa è la ruota Di un Boeing Porca miseria Potenza L'endismo Potenza Questo penso sia Uno di quei vecchi sedili Oggi non c'è Fa un'altra ruota Di un aereo Lì non mi sto a continuare Qui c'è un simulatore Credo Che figata Questa credo sia La torre di controllo Fake Da bene Per curiosità Hyakuten Kantan Questa è come è stato costruito Il Kix In sostanza Sotto c'è la merda E sopra c'è Altra merda Se non sbaglio È che l'ha costruito Il Renzo Piano Notevole Però costa Un bordello Di manutenzione È uno fra gli aeroporti Più cari al mondo Se non in più caro Se non vado errato Qui vedete La costruzione Dell'aereo Porto Qui i mezzi utilizzati E niente Qui c'è la guida addirittura Sono sincero A livello museo Mi ha deluso Veramente tanto Ma veramente Veramente tanto Come posto per scattare foto Ottimo E io praticamente Ora devo andare di là Basti stop Chissà a chi ora ce l'ho Basti Io spero sia quello Sì è quello No Non è quello Dimmi che è quello Porco zio Basti 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 Grazie a tutti.